Ecco qui, siamo nella cucina della Tegetov, ammiraglia dell'ammiraglio, e il comandante sta filmando i suoi giovani prima della battaglia, ecco il cambusiere, il cambusiere della Tegetov, quel giorno prima della battaglia, come oggi, si preparò una bruschetta col petto, che direttamente il nostro cambusiere si sta preparando, eccolo, è lui, quello che quel giorno pensavate di vedere sulla Tegetov è come lui, qui nella Tegetov, in mezzo ai cannoni, alle armi, si sta mangiando un frugale patto, una battaglia, si sente l'odore della battaglia, saluta, saluta, il marinaio saluta, qui il cambusiere saluta anche lui, ecco lì, ci vediamo nei mari.